Nei primi tre mesi abbiamo avuto oltre 6.000 accessi all'interno di questo museo, completamente rinnovato. È un chiaro segno di come la Grande Guerra possa diventare anche una grande occasione di rilancio economico della marca, sia dal punto di vista culturale, ma anche e forse soprattutto turistico. Tra circa un mese inizieranno ufficialmente i quattro anni di commemorazione da quel 24 maggio 1915, quando l'Italia entrò ufficialmente in guerra con l'Austria e Ungheria. Saranno quattro anni dove da tutti i continenti giungeranno qui per ricordare i propri caduti. Questo è lo spunto da cui partono iniziative come quella avvenuta nei giorni scorsi nel piccolo auditorium del Museo di Ceneda, la presentazione del piccolo abecedario della Grande Guerra raccolto da Sergio Tazzer. Serviva un abecedario per la Grande Guerra? Certo che serviva un abecedario, anche perché i ragazzi conoscono poco, ma girando per le scuole e per le università mi sono accorto che anche i professori non sono del tutto ferrati. Del resto cosa volete? L'abecedario è abbastanza neutro nel senso che deve descrivere dalla A alla Z. Così l'abecedario inizia da Albertini, mitico direttore interventista del Corriere della Sera, e finisce con Vittorio Italico Zuppè, generale italiano originario di Capodistria quando era ancora dell'Austria e Ungheria. In mezzo ci sono nomi e luoghi talvolta assai curiosi. Per la Pi ci sta Piave? Sicuramente ci sta Piave, ma ci sta anche Pinara. Il Pinara fu il vino che generosamente venne distribuito ai militari francesi. Il maresciallo Joffre, che era figlio di un bottaio, lo glorificò, sostenendo che aveva sostenuto il morale della truppa. Così come il Raboso, per molti fu il vero vincitore degli austro-ungarici, che arrivando sul Piave anziché combattere, stanchi ed affamati, in molti casi annegarono letteralmente, bevendo senza ritegno dalle botti abbandonate. Sono storie della nostra storia e dei nostri territori, che andranno valorizzate, perché sono anche vicende che hanno coinvolto tutto il mondo. Nomi e luoghi, ma anche canzoni, che hanno unito nelle trincee, come oggi uniscono nel ricordo, una per tutte il Piave, che nessuno non riesce a non cantare. Calmo e l'acido passaggio dei primi banchi, il 24 maggio.